Io sono il Titano. Attenzione! Benvenuti, stranieri. Sono Rodium, guerriero Solark e custode dell'Ordine. Se venite in pace siete i benvenuti, ma se metterete in rischio l'Ordine del Santuario io non avrò alcuna pietà di voi! No, no, no! Noi siamo quelli buoni! Voi siete portatori di caos, servitori degli Eclipse. Colpo Solare! Sì? Non riuscirai a sfuggirmi! Gormiti, potenza degli elementi! Energia del magma! Combatti! Ah! Vulcan! Magma al massimo! Ehi, amici, che sta succedendo? Bene, bene. Ora ci divertiamo. Questo invece l'ho capito. Magma Sfera! Magma Sfera! Sei pronto, Riff? Prontissimo! Tempesta di magma! Non c'è la fin del polo! Otroende a-ma! C'è la fin! Ah illustrate del viaggio di San Diego Grazie a tutti.